Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Oggi come migliorerà la gestione, l'emergenza, come viene chiamata da ormai tutti i migranti nel nostro paese? Ma io temo che possano farne anche 15, 16, 25 di decreti in migrazione. Intanto dovrebbero essere onesti, scusarsi per avere proposto soluzioni semplicistiche e facilone e ammettere che è un problema che non ha una soluzione immediata pronto cassa. È un problema che richiede enormi sforzi costosissimi, diplomatici, finanziari, organizzativi per cercare di limitare un po' le partenze e di gestire meglio gli arrivi in attesa che nasca l'Europa che notoriamente è una specie di cavo, di banco, ma da questo punto di vista non è mai esistita e non è mai nata. Nel decreto di oggi non c'è niente di quello che Meloni e Salvini dicevano in campagna elettorale. Dicevano porti chiusi, non mi pare che sia all'ordine del giorno, nel senso che sanno benissimo che non si possono chiudere i porti. Si parlava di blocco navale, non vedo blocchi navali, meno male perché altrimenti dovremmo convocare tutte le flotte del mondo e probabilmente accorgeci che non bastano tutte le flotte del mondo per coprire l'intera costa nordafricana e chiuderla e sigillarla. Vedo che c'è una velleità di aumentare i posti nei centri di permanenza che in realtà sono dei centri di detenzione, sono delle gabbie. Si chiudono persone che non hanno commesso dei reati, comprese quelle che chiedono asilo, a volte ne hanno diritto, a volte no, ma ci sono anche quelli che scappano dalle guerre e dalle persecuzioni e li chiudiamo, adesso possiamo chiuderli per 45 giorni prorogabili fino a 3 mesi, adesso potranno essere rinchiusi di dentro per 18 mesi, cioè per un anno e mezzo senza avere commesso reato. Oggi i centri sono 9 per circa 1.100 posti, ne vogliono fare uno per regione, quindi 20, immagino che arriveremo a 2.000, 2.500 posti, ma questi sono decine di migliaia, dove pensano di metterli tutti gli altri. Ammesso e non concesso che sia costituzionale tenere segregate delle persone per un anno e mezzo senza un'accusa, mica siamo a Guantanamo, per fortuna. Parla di caserme, di tende, le caserme servono a qualsiasi cosa, a sfollare le carceri, ne parlano da 20 anni, non ho mai visto una caserma trasformata in un carcere, adesso le vogliono usare anche per metterci dentro i migranti. Parlano di tendopoli senza calcolare che poi a un certo punto arriva la brutta stagione e nessuno può vivere in una tenda tutto l'anno. Mi sembra che sia l'ennesima propaganda per coprire il vuoto di idee, che è veramente la cosa preoccupante. Il vuoto di idee, non c'è niente al posto della propaganda con cui hanno vinto le elezioni.